Con 1789 voti Gaetano Sollazzo, candidato sindaco della lista La Città del Sole, è stato eletto primo cittadino di Diamante. Una vittoria senza sé, senza ma, che era già stata ampiamente pronosticata, visto l'appoggio incondizionato alla compagine del deputato del PD Ernesto Magorno. A seguire la lista dei giovani per una Diamante migliore, che totalizza 980 voti, un risultato di tutto rispetto, infatti per molti candidati questa campagna elettorale è stata anche il proprio battesimo politico. 828 preferenze invece per la lista Diamante futura di Claudia Perrone, ed ecco da chi sarà composto il nuovo Consiglio Comunale. In maggioranza al fianco di Gaetano Sollazzo siederanno Anna Casella, che con 453 preferenze probabilmente rivestirà la carica di vice sindaco, Pierluigi Benvenuto, Francesca Casella, Francesco Maiolino, Ornella Perrone, Bernardo Oriente, Francesco Suriano e Maria Assunta Urciuolo. All'opposizione invece entrano Antonio Cauteruccio e Francesca Amoroso per la lista per una Diamante migliore e Claudia Perrone e Pino Pascale per la compagine Diamante Futura. E adesso inizia il toto giunta. Anna Casella, prima eletta in assoluto, con molta probabilità sarà la vice di Sollazzo. Gli assessori dovrebbero essere Pierluigi Benvenuto, Francesca Casella e Franco Suriano. Il grande deluso invece potrebbe essere Francesco Maiolino. Nonostante le sue 244 preferenze potrebbe non entrare a far parte dell'organo esecutivo del governo Sollazzo. Per lui potrebbe esserci la carica da Presidente del Consiglio, ma queste sono solo ipotesi. Grazie. 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 Grazie.